Adesso a 90 anni, presiedevo alla Costituente la Commissione dei 75 per redigere il testo della Costituzione. Si trovarono d'accordo rappresentanti dei movimenti politici di ispirazione democratica, cristiana, liberale, repubblicana, socialista e comunista. La nuova carta non poteva ritornare allo Statuto Albertino. Doveva ispirarsi ai valori della resistenza e della liberazione, per accogliere i nuovi principi di libertà e di socialità, a scopo di creare da noi, all'interno ed in rapporti di pace con altri Paesi, un sistema politico ed economico essenzialmente democratico. Non poco si è realizzato in questi 20 anni e più ancora potrà realizzarsi in futuro. La nostra Costituzione dovrà essere applicata anche dove non lo è ancora e potrà essere, ove sia necessario, riveduta, ma non per i principi esenziali che resteranno a fondamento della nostra vita sociale. La resistenza voleva certamente uno Stato che fosse il contrario esatto dello Stato fascista, uno Stato democratico in cui la sovranità partisse dal basso e non scendesse dall'alto e uno Stato moderno che assicurasse a tutti piena dignità civile e un livello di vita moderno. La Costituzione ha disegnato, sia pure con qualche contraddizione, uno Stato che si avvicinava a queste aspirazioni.